Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con il Fatto del Giorno. Oggi il nostro approfondimento riguarderà il vertice di Davos, cominciato ieri a Davos, cittadina sulle Alpi Svizzere, comincia però oggi ad entrare nel vivo. 50 anni, abbiamo detto, organizzato dal World Economic Forum, quest'anno il vertice ha l'obiettivo di sensibilizzare i protagonisti, uomini politici e dell'economia, verso il cambiamento del clima e quindi andare verso un'economia sostenibile dal punto di vista climatico. I partecipanti, l'abbiamo visto, sono 3.000 esponenti del mondo economico, scientifico e politico. Ripercorriamo però quali sono stati i 50 anni, i più grandi successi del vertice di Davos. Nasce nel 1970, apre agli uomini politici nel 1974 e ad esempio nell'89 c'è il primo grande incontro tra le istituzioni di Corea del Nord e Corea del Sud, mai questi due paesi in guerra formalmente dagli anni 50 si erano incontrati, ma anche l'incontro dello stesso anno tra Helmut Kohl e Modro, i presidenti delle due Germanie allora divise, e poi quello del 92 tra il presidente sudafricano è Nelson Mandela. Andiamo avanti però, perché ieri abbiamo detto si è aperto il vertice, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che in linea con quelli che sono gli obiettivi di quest'anno del vertice ha voluto sensibilizzare la platea verso una riconciliazione dell'economia con il nostro pianista, quindi un'economia green affinché lo sviluppo umano possa essere sostenibile. Oggi però sono arrivati due importantissimi protagonisti, protagonisti di oggi, due antagonisti tra di loro. La prima Greta Thunberg, la conosciamo, la giovanissima attivista svedese per l'ambiente che ha riconosciuto alla platea quella che è la maggiore consapevolezza acquisita sul cambiamento climatico, ma le ha anche ammoniti. Ha detto che sono pochi passi avanti i fatti verso il controllo dell'ambiente. E poi alle 11.30 ha parlato Donald Trump che si è smarcato un po' da quelli che sono i temi sull'ambiente, ma ha voluto riconoscere i suoi grandi meriti dal punto di vista economico, gli accordi commerciali sulla Cina e poi ha voluto stigmatizzare il pessimismo che c'è nei confronti dell'ambiente dicendo basta con questo pessimismo e con le previsioni apocalittiche che fate sull'ambiente. Per oggi è tutto, noi torniamo domani, buona giornata. Grazie a tutti.